e ti pareva che anche oggi non ho dovuto stravolgere all'ultimo momento i miei piani ebbene sì ti volevo portare un video completamente diverso e molto divertente ma che è solo rimandato naturalmente perché in fretta e furia ho dovuto preparare questo qui che stai guardando e questo perché recentemente per farla molto breve è stata scoperta una falla una vulnerabilità zero day su windows 7 windows 8 windows 10 windows 11 e windows 11 24 h2 che sostanzialmente consiste in un buco grosso così che consente a un malintenzionato di fare sostanzialmente un po quello che vuole sul tuo computer ma naturalmente ad ogni problema corrisponde sempre una soluzione questa volta sotto forma di patch e allora non perdiamo altro tempo e vediamo che cosa dobbiamo fare e quindi se ti senti pronto facciamo e vabbè si dice che il mondo è bello perché vario ma qui sta diventando un tantinello monotono star dietro a tutte quante queste vulnerabilità e a tutti quanti questi buchi di sicurezza ma per fortuna la soluzione di oggi è davvero semplice 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 e naturalmente alla portata di tutti e ci consente di risolvere definitivamente un problema davvero potenzialmente molto grave ma prima di andare a risolvere il nostro problema naturalmente non possiamo dimenticarci di omaggiare adeguatamente le divinità del tubo per mezzo del nostro consueto rituale apotropaico disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va questa mattina per fortuna una volta tanto dopo colazione stavo leggendo con il consueto avido interesse i vari gruppi su reddit a cui sono iscritto ed in particolare sono inciampato in quest'ultimo che si chiama sysadmin ed è un gruppo sostanzialmente dedicato agli amministratori di sistema su cui un utente lanciava questo allarme nuova vulnerabilità di divulgazione hash ntlm zero day in windows 7 11 lo so è un pochino tecnichese ma tra un attimo ti spiego tutto il testo dice che i ricercatori di zero patch un'azienda che a breve impareremo a conoscere molto bene hanno scoperto una vulnerabilità zero day che colpisce tutte le versioni supportate di windows workstation e server a partire da windows 7 a finire a windows 11 24 h2 questo difetto consente a un malintenzionato di estrarre queste credenziali se la vittima visualizza un file dannoso in esplora risorse di windows attenzione visualizza non significa apre ma anche questo lo vediamo tra un attimo ad esempio basta aprire una cartella condivisa inserire semplicemente un dispositivo usb oppure navigare nella cartella download dove può essere stato scaricato inavvertitamente questo file dannoso questa tecnica non richiede all'utente di aprire o eseguire il file ma è sufficiente visualizzarlo ma siccome reddit è tanto buono e caro ma qualche volta c'è qualcuno che la spara un po' grossa prima di procedere ho voluto fare un bel controllo incrociato a partire dalle riviste di settore inglesi e americane che devo dire riportavano pedissequamente tutte quante la stessa notizia a partire da tom's hardware passando che ne so per forbes che tanto di settore non è e finendo con blipping computer che invece è specializzata nella sicurezza e devo dire che tutte quante l'hanno rimbalzata in maniera assolutamente identica e quindi ci possiamo fidare al 100% ma piuttosto che leggercela in inglese spostiamoci sul suolo patrio e leggiamocela comodamente in italiano e lo facciamo con tom's hardware che ci informa con il suo titolone che se per caso apriamo la cartella sbagliata ci rubano le credenziali e non solo aggiungo io perché il problema è di portata maggiore e che lo zio bill non ha ancora pensato a correggere questa vulnerabilità e allora ce la correggiamo da soli ma prima dobbiamo capire esattamente di che cosa si tratta è una vulnerabilità di sicurezza che coinvolge il protocollo ntlm e cioè new technology lan manager ovvero il protocollo di microsoft ormai molto vecchio che gestisce l'autenticazione e le credenziali della rete questa falla è stata individuata dal team di sicurezza zero patch e consente di rubare queste credenziali di accesso semplicemente visualizzando una qualsiasi cartella che sia stata infettata senza nemmeno la necessità di aprire direttamente un file al suo interno e infatti questa vulnerabilità oltre che zero day che è relativo alla data di scoperta e a quello che è successo nel frattempo è anche una vulnerabilità no click cioè sostanzialmente non richiede quasi nessuna interazione da parte dell'utente per essere messa in atto la scoperta di questa vulnerabilità arriva a pochi mesi casualmente dalla decisione di microsoft di abbandonare ufficialmente il supporto per ntlm e finalmente dico io perché è un protocollo in essere addirittura dal 1993 ovvero ere geologiche fa informaticamente parlando la vulnerabilità è stata individuata dall'azienda di sicurezza zero patch e colpisce come abbiamo ormai già capito un'ampia gamma di computer a partire da windows 7 a finire a windows 11 24 h2 con nel mezzo naturalmente anche tutte quante le versioni server fortunatamente zero patch ha già rilasciato una micro patch che risolve la vulnerabilità ntlm in questione questa patch è disponibile gratuitamente fino a quando microsoft non si deciderà a risolvere in maniera ufficiale il problema e si concentra su una singola istruzione vulnerabile di ntlm riducendo in questo modo al minimo il rischio di potenziali effetti collaterali ma a questo punto andiamo a vedere come fare a scaricare ed installare questa patch per farlo apriamo una nuova scheda del nostro browser e andiamo a digitare nel motore di ricerca come sempre gentiluomo digitale effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al sito gentiluomo digitale punto it clicchiamo per aprire il nostro sito e una volta che si sarà aperto ci porteremo qui in alto sulla sezione che si chiama downloads fatto questo scendiamo un po più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama zero patch installer attenzione però nel caso in cui tu non dovessi riuscire per qualsiasi motivo a trovare questo download qui potrai cliccare qui in alto sulla lente di ricerca scrivere al suo interno zero patch scritto in questo modo qua effettuare la ricerca e vedrai che riuscirai comunque a scaricare non solo questo ma qualsiasi file ti interessi clicchiamo quindi sul pulsante file download attendiamo il download del nostro file che come vedi ci mette come sempre pochi secondi ad essere scaricato clicchiamo su questo pulsante qui per aprire la cartella compressa ma questa volta non chiudiamo il sito perché c'è un'altra operazione che dobbiamo fare andremo infatti a ridurre la nostra cartella dei download cliccando su questo pulsantino qui e la manderemo temporaneamente qui sotto perché prima abbiamo bisogno di fare un click sul pulsante sito ufficiale sotto il download di zero patch installer in questo modo verremo trasportati sul sito ufficiale di zero patch dove potremo effettuare la nostra registrazione che è fondamentale per poter utilizzare gratuitamente il programma per farlo clicchiamo qui in basso dove c'è scritto create account e nella pagina che si aprirà andremo ad inserire il nostro indirizzo di posta elettronica spunteremo la casella i agree to terms of service eccetera eccetera e quindi cliccheremo sul pulsante register ci arriverà un email esattamente come questa che ti sto mostrando con cui potremo cliccando effettuare la nostra registrazione inserendo una password di nostra scelta fatto questo potremo finalmente chiudere il nostro browser tornare qui sotto dove abbiamo minimizzato la nostra cartella dei download e fare un doppio clic sul file che abbiamo scaricato quello che si chiama zero patch installer meno 2 punto zip per aprirlo e all'interno troveremo il file di installazione del software che ci serve facciamo un bel doppio clic sul file al suo interno clicchiamo sul pulsante esegui e successivamente nella finestra che si apre andiamo a cliccare sul pulsante next clicchiamo su i agree per accettare i termini di licenza e ancora sul pulsante next in questa finestra lasciamo tutto quanto come sta e clicchiamo ancora una volta sul pulsante next e infine su next per far partire l'installazione ci verrà chiesto di attribuire a questo programma i privilegi amministrativi cosa a cui acconsentiremo cliccando sul pulsante sì in pochi secondi il nostro zero patch client viene installato e la finestra di installazione potrà essere chiusa cliccando sul pulsante close accettiamo ancora una volta cliccando sul pulsante sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo e ci si aprirà la finestra di login del nostro zero patch all'interno della quale dovremo digitare in alto l'indirizzo email con cui ci siamo registrati e più in basso la password che avremo scelto in fase di prima registrazione fatto questo clicchiamo sul pulsante sign in e attendiamo l'avvio del programma ed ecco fatto in realtà non c'è assolutamente nient'altro da fare perché abbiamo appena scaricato il client zero patch che è un programma fatto da questa azienda di sicurezza che va automaticamente a correggere tutti i problemi di sicurezza individuati sul nostro computer come puoi vedere nel mio caso ha rilevato quattro patch che sono state applicate e quindi ha risolto altrettanti problemi di sicurezza e ha patchato la sicurezza di altre 36 applicazioni troppo bello per essere vero in parte sì in parte no perché quella che stiamo utilizzando è la versione gratuita che possiamo utilizzare per tutto il tempo che vogliamo ma non passerà in realtà tutti tutti i problemi di sicurezza del nostro computer ma in questo caso il nostro ntlm è al sicuro fino a quando non uscirà la patch ufficiale di microsoft e potremo eventualmente decidere se rimuovere questo programma oppure se magari pagare la licenza completa e dimenticarci per sempre di tutti quanti i problemi di sicurezza. Una piccola aggiunta postuma all'uscita di questo video ho dimenticato di dirti che zero patch si caricherà automaticamente in basso a destra nel system tray ogni volta che riavvierai il computer e che ogni tot di tempo andrà a controllare automaticamente se ci sono nuove patch di sicurezza da installare sul tuo computer e farà tutto quanto in automatico. In questo caso e tutti gli altri ti consiglio comunque di dare sempre un'occhiata alla descrizione del video ed eventualmente al commento in evidenza che dovessi aggiungere per rispondere alle domande comuni. Continuiamo. Insomma grazie a zero patch per fortuna ce la siamo sfangata egregiamente anche stavolta ma siamo arrivati quasi al termine del nostro video. Come perché quasi? Perché mancano i ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a Salvo Davola, Mohamed Ahmed, Vincenzo, Guido Mauri, Raffaele Ponticelli, Daniele e Diego Galli che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei gentiluomini e quindi con estremo piacere che vi do il benvenuti oppure il ben rimasti a bordo. Ma attenzione udite udite perché quest'oggi dobbiamo ringraziare anche Massimiliano Fratticelli e Zicopio perché si sono abbonati sì ma in qualità di distinti gentiluomini e quindi è un vero piacere ed un onore togliermi davanti a voi il cilindro farlocco e non abbiamo finito perché quest'oggi ringraziamo anche Stefano Ruzza, Maurizio Andrenacci, Stefano Petrolini in arte Petrus e Giuseppe S per i loro generosissimi super grazie con i quali hanno voluto contribuire a sostenere la vita di questa community ed un ultimissimo importantissimo ringraziamento e naturalmente come sempre quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che ringraziarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima